La mostra Segni Elementari, promossa dalla Galleria Secci in collaborazione con l'archivio Gio Pomodoro e ospitata presso il Battistero del Duomo di Pietrasanta, è stata oggetto di un atto vandalico da parte di ignoti che hanno deturpato tutte e quattro le opere esposte. È quanto è stato denunciato da Edoardo Secci, titolare della Galleria. Le opere, quattro in totale, sono state tutte danneggiate con un punteruolo o comunque con un oggetto metallico accuminato. I segni più evidenti si trovano sulle due opere intitolate Tensione Verticale e Figlia del Sole, realizzate in bronzo patinato e su cui le incisioni hanno portato allo scoperto il metallo vivo. Danneggiate anche le due folla, la cui superficie specchiata ha nascosto però in parte il vandalismo. Il sindaco di Pietrasanta si è recato immediatamente sul posto per valutare di persona quanto accaduto all'esposizione allestita nel battistero. Ho attivato immediatamente il comando di polizia municipale, ha dichiarato il primo cittadino, per verificare se le telecamere di videosorveglianza posizionate all'incrocio tra le vie Garibaldi e Mazzini abbiano registrato elementi utili a identificare l'autore o gli autori di questo gesto sconcertante. Il sindaco, nell'esprimere la massima solidarietà al figlio dell'artista Bruno Pomodoro e ai curatori dell'esposizione, ha ricordato che atti vandalici di questa proporzione non erano mai avvenuti a Pietrasanta e ha condannato con fermezza chiunque abbia compiuto questo gesto sconsiderato.